Salve a tutti i piccoli e grandi lettori, la presentazione dei libri Osborne di oggi è Lift the Flop Nature. Qua fa vedere tutta la natura, c'è gli uccellini, lo stagno, la petta, la pioggia, vediamo che c'è qua, qua c'è tutta la natura, ecco qua, poi si gira pagina e ci sono le stagioni, le stagioni in tutto l'arco dell'anno, ecco qua, il riccio che dorme, un pozzo di neve, poi qua ci sono i piccoli animali, qua c'è il cervo, il tasso, qua c'è il gufo, la civetta, e sotto c'è i suoi piccoli toccadino, la volpe, il coniglio, ecco qua, poi vediamo pagina, come crescono le piante, qua c'è tutte le finestrine, fa vedere il semino, cresce, diventano dei fiadini, poi, ecco qua, cosa c'è nello stagno, c'è la rana, scusate, i girini, la papera, tutte le alghe, tutti gli animali, nel giardino, tutte le finestrine dell'aprile, la piacciono, faccio tutti i nomi, il ragno, la cucinella, ecco qua, poi, il riva al mare, i scogni, le stelle marine, il granchio, eccetera, eccetera, vediamo l'ultima pagina, questo è il percorso naturalistico, fa vedere tutti i domestivosi, interessanti, ecco qua, questo è Lift the Flap Nature, spero che vi sia piaciuto questo libro, se sì, mettete mi piace, condividete, se volete potete seguirmi sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram, trovate i link in descrizione, se volete potete lasciare un commento e per informazioni potete contattare nei link, grazie, buona lettura, da piccolo grande mondo dei libri e...